E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come installare Windows 11 anche sui PC che normalmente non sarebbero compatibili con questo aggiornamento. Come questo mio vecchio portatile che, come potete vedere, se vado ad aprire il tool di Microsoft per controllare la compatibilità, non è supportato perché non ha l'avvio protetto, non ha il modulo TPM 2.0 e non ha neanche un processore compatibile. Insomma, è un bidone. Perciò se anche voi avete uno o più requisiti mancanti, beh, siete nel posto giusto. Infatti i vari requisiti che trovate all'interno di questa lista non sono strettamente necessari per installare e far funzionare correttamente Windows 11. L'unico requisito che è proprio fondamentale è avere un PC e un sistema operativo installato a 64 bit. Ormai è da diversi anni che non vendono più PC a 32 bit, perciò non dovrebbe essere un grosso problema. In ogni caso, per controllare se siete su un sistema a 64 bit, vi basta andare su Start, qua sulle impostazioni, dopodiché andate su Sistema e qua in basso su Informazioni. E qua, come potete vedere, nel mio caso sia il sistema operativo sia il processore sono a 64 bit, perciò nessun problema. Bene, ma detto questo, direi che possiamo iniziare con la procedura vera e propria. Come prima cosa, dobbiamo andare a scaricare un gestore di archivi chiamato WinRAR, se ancora non lo avete. Per scaricarlo vi basta aprire il primo link che trovate qua sotto nella descrizione del video che vi riporterà su questa pagina. Qui cliccate sul primo tasto preleva che trovate qua in alto, quello per PC a 64 bit. Una volta scaricato, andate ad aprire questo file, date tutte le autorizzazioni del caso, andiamo a cliccare su Installa, aspettiamo qualche secondo, diamo l'ok, clicchiamo qua su Chiudi e abbiamo già fatto, possiamo chiudere anche quest'altra finestra. Perfetto, la prossima cosa da fare è scaricare l'immagine ISO di Windows 11. Anche per questa pagina trovate il link nella descrizione, e qua dobbiamo andare nell'ultima sezione, qua in basso, quella Download dell'immagine del disco ISO di Windows 11. Dobbiamo andare su questo menu, dove dobbiamo selezionare Windows 11, quindi clicchiamo su Scarica. Ora ci chiederà la lingua, scegliamo la lingua che abbiamo attualmente impostata sul nostro PC, nel mio caso è proprio l'italiano, eccolo qua. Diamo la conferma e ci verrà generato appunto un download di Windows 11 in italiano. Perciò clicchiamo su questo bottone blu e voilà. Vedete che questo file pesa circa 5 giga. Potrebbe volerci un bel po' di tempo per completarlo, perciò direi che possiamo rivederci non appena avrà terminato. E rieccoci, finalmente il download è terminato, perciò possiamo uscire da qui per spostarci nella cartella dove abbiamo scaricato questo file. Nel mio caso appunto si trova tra i download. Adesso dobbiamo selezionare questo file, file di Windows 11, ci facciamo clic con il tasto destro, e andiamo a cercare le opzioni di WinRAR. In alcuni casi potreste trovare già all'interno di questa lista tutte le varie opzioni, oppure come nel mio caso trovate qua WinRAR e la lista in quest'altro sottomenu. A noi interessa l'ultima opzione, questa qua, e starai i file in Windows 11 eccetera eccetera, perciò ci clicchiamo sopra e aspettiamo ancora qualche secondo. Al termine dell'operazione troveremo questa nuova cartella, andiamo ad aprirla e dobbiamo cercare quest'altra cartella chiamata sources, apriamo anche questa, ed ora qua all'interno cerchiamo un file chiamato appriserres.dll. Sì, è un nome un po' strano, ve lo scrivo qua in grosso a schermo così non vi confondete, visto che ci sono diversi altri file con nomi simili all'interno di questa cartella. Eccolo, è proprio lui il responsabile di tutti i controlli aggiuntivi che va a fare Windows 11, perciò per bypassarli molto semplicemente andiamo a cancellarlo. Vi basta selezionarlo, sempre fare clic con il tasto destro e andare qua a cliccare su elimina. Bene, il gioco è fatto perché ora se torniamo nella cartella precedente possiamo andare ad aprire il setup facendoci doppio clic sopra, diamo le varie autorizzazioni e adesso funzionerà senza problemi anche se il nostro computer non è compatibile. La cosa importante da fare è andare qua su questa scritta, modifica la modalità di download degli aggiornamenti di installazione, ci cliccate sopra e dovete impostare su non ora. Tranquilli perché questo non vuol dire che gli aggiornamenti verranno disabilitati, semplicemente non verranno controllati in questo momento. Dopo vi farò vedere che anche Windows Update funzionerà a dovere. Perciò andiamo qui a cliccare su avanti, andiamo ad accettare la licenza di Microsoft, nel mio caso installerà Windows 11 Pro perché avevo già la versione Pro di Windows 10, mentre qui banalmente potete scegliere se mantenere o no i vostri file e le vostre impostazioni. Io voglio andare a mantenere tutto perciò lo lascerò così, vado a cliccare su avanti e possiamo procedere. Grazie a tutti. E direi proprio che l'aggiornamento è stato completato correttamente. Vi faccio subito vedere che andando su Start sulle impostazioni, se andiamo qua in basso sulle informazioni di sistema, eccole qua, troviamo effettivamente Windows 11 Pro installato su un processore Intel di terza generazione. Giusto per chi non lo sapesse, la compatibilità ufficiale sarebbe solo dall'ottava generazione in poi. Non è tutto qui, infatti se torniamo indietro e andiamo nella sezione dell'attivazione, vedete che la mia vecchia licenza che avevo acquistato per Windows 10 è ancora valida anche su Windows 11. E per finire vi faccio anche vedere che andando su Windows Update ha trovato in automatico degli aggiornamenti e li sta già preparando per scaricarli ed installarli. Insomma avete visto che questo è Windows 11 funzionante in tutto e per tutto. Bene ma detto questo per il video di oggi era tutto, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, in tal caso vi invito a lasciare un bel like e se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale. Noi come al solito ci rivediamo alla prossima e ciao a tutti! Noi come al solito ci rivediamo! Grazie!